carissimi fratelli sorelle pace e bene buongiorno per tutto il giorno meditiamo il vangelo di marco capitolo 1 versetti 14 a 20 dopo che giovanni fu arrestato gesù andò nella galilea proclamando il vangelo di dio e diceva il tempo è compiuto e il regno di dio è vicino convertitevi e credete nel vangelo passando lungo il mare di galilea vide simone e andrea fratello di simone mentre gettavano le reti in mare erano infatti pescatori gesù disse loro venite dietro a me vi farò diventare pescatori di uomini e subito lasciarono le reti e lo seguirono andando un poco oltre vide giacomo figlio di zebedeo e giovanni suo fratello mentre anch'essi nella barca riparavano le reti e subito li chiamò ed essi lasciarono il loro padre zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui parola del signore marco ci racconta la vocazione dei discepoli abbiamo qui i primi apostoli primi apostoli andrea simon pietro e giacomo e giovanni gesù era consapevole dell'immensità della sua missione da solo non poteva farcela allora ha voluto scegliere questi uomini per accompagnarlo dovunque lui andava oppure mandarli dove lui voleva recarsi e questi uomini scelti non sono intellettuali non sono gli uomini che hanno studiato non sono gli uomini della classe bassa diciamo così sono pescatori dice il vangelo e la cosa impressionante è proprio la prontezza con cui hanno accolto la chiamata di gesù si sono alzati e andare dietro a lui senza porre nessuna resistenza hanno subito obbedito alla chiamata di gesù cristo umanamente parlato un po difficile l'uomo ha bisogno di capire di sapere gesù non ha promesso un contratto non ha promesso nulla a loro quasi non ha detto niente chi è lui che cosa fa come fa e sarà un datore di lavoro nulla di questo ha detto seguitemi loro avevano il loro lavoro l'hanno lasciato per seguire cristo ma come questo potrebbe essere possibile se non ci fosse dietro la mano dello spirito santo che tocca il cuore di qualcuno che si alza e segue cristo e questi uomini si sono resi disponibili non hanno posto nessuna resistenza hanno dedicato tutta la loro vita a cristo abbandonando le famiglie e sono dedicati sono dedicati a cristo è impressionante vedere una cosa di genere sentire proprio questa determinazione che avevano ecco carissimi la vita nostra cristiana è una vita che ti invita anche a comportarci come questi discepoli perché gesù ci ha chiamato per lavorare nella sua messe nel suo campo ci ha chiamato per essere gli operatori per essere pescatori di uomini ma questo richiede la disponibilità e l'obbedienza obbedire a cristo non possiamo andare a lavorare nell'ufficio non possiamo essere non possiamo seguire cristo mettendo davanti la nostra umanità i nostri interessi mettendo davanti il nostro egoismo i nostri vantaggi non è possibile seguire cristo in quel modo c'è da abbandonare tutto per seguirlo e lui ci colmerà da ogni cosa e perciò carissimi è ora di chiedere proprio il dono dell'obbedienza dono della disponibilità per servire deneamente i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno di noi perché di solito facciamo finta di non avere tempo mi fai quello non ho tempo non ho tempo non ho tempo non ho tempo non abbiamo mai avuto un tempo per gli altri tranne quando c'è il nostro interesse lì il tempo ce l'abbiamo e subito ma quando non c'è l'interesse il tempo non ce l'abbiamo l'obbedienza non conta per nulla anzi qualche volta critichiamo anche mormoriamo contro le persone che ci hanno chiesto un servizio ma siamo liberi di esercitare o no siamo liberi ma pensiamo alla nostra identità cristiana che ti invita all'obbedienza e alla disponibilità naturalmente come siamo con il nostro tempo il vero tempo non il falso tempo perché di solito spreghiamo il tempo con il cellulare con altre cose e le vere cose che abbandoniamo di tralasciamo allora carissimi che lo spirito santo veramente ti dia questa grazia di seguire cristo servendo i nostri fratelli e sorelle offrendo a ciascuno di loro la nostra disponibilità il nostro tempo vi auguro una buona e santa giornata che dio vi benedica sempre grazie a tutti